Si tratta di un pecorino che affonda le sue tradizioni addirittura nel 1400 quando questo formaggio veniva messo all'interno di queste cavità per difenderlo dagli assalti dei predoni e chiaramente quando poi questo formaggio veniva tirato fuori ci siamo accorti che era un formaggio straordinario che aveva dei gusti e dei profumi unici. Un formaggio dal sapore medievale che rivive grazie ad un'azienda retina si chiama l'Ambra di Talamello ed è una specialità che affonda le sue radici indietro nel tempo realizzata seguendo ancora ad oggi un antichissimo processo di stagionatura in fosse arenarie. Dà al formaggio stesso delle caratteristiche uniche di grande delicatezza, di grande equilibrio cioè un formaggio, io lo chiamo un formaggio da meditazione. 7.000 le forme che sono state estratte nei giorni scorsi dalle fosse del piccolo paese dell'entroterra di Rimini e che adesso saranno distribuite nei mercati di tutto il mondo dando così seguito ad una tradizione che risale al 1400. Questo è il prodotto come esce dalla fossa alla fine della stagionatura. Come vedete sono sacchi che sono completamente deformati dal calore e dalla pressione del formaggio stesso. Sono sette forme ogni sacchetto e quindi al momento in cui viene tolto fuori viene fatto asciugare per un periodo di 3-4 giorni poi viene staccato forma per forma e viene nuovamente fatto riposare per almeno un paio di giorni perché farlo nuovamente depositare, insomma farlo asciugare un attimino ancora di più poi viene pulito con un cucchiaino e dopodiché viene messo sotto vuoto forma per forma. Quindi è un formaggio che ha una storia, una lavorazione assolutamente unica. Visto l'antichissimo processo di stagionatura il comune di Talamello ha stabilito un disciplinare e indettumbando per l'utilizzo del marchio che si è giudicato l'azienda Aretina. In un momento così particolare sicuramente non vi è mancato il coraggio di investire sulle tradizioni? Non abbiamo preso in considerazione tutto quello che sta avvenendo perlomeno sperando in maniera ottimistica che il futuro sia rosio più di quello che in questo momento può apparire. Siamo assolutamente convinti che così sia anche perché andando ad investire nella qualità siamo assolutamente convinti che questa sia la formula vincente per uscire da una situazione così difficile.